Test the whole action all together, facciamo una prova Fermi e sonora Ma che state girando? Uno spot Quanto avete speso? Abbiamo energia tutto compreso, taglia medium Non abbiamo mai superato la nostra taglia 28 euro Uno spot di cosa? Eh, non ho offerta di energia elettrica Si chiama energia tutto compreso Ma di chi è? Enel Ed è esatto! Grazie